... ... ... ... ... ... Sono quelli venuti meglio questi eh! ... ... ... ... ... ... ... ... che è stata lì in panne per su Sì, non lo so, non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo so, è una cosa assurda. Grande, brava. Stata bravissima. Grazie a tutti. Un saluto alla prossima. Oddio. Ciao. Ciao.